Questo è il modo migliore per iniziare, prego Eva! Allora, questa è la mia giacca Kitamo, è una giacca di ispirazione giapponese questa è innanzitutto una giacca double fass, è una mantella con le maniche si indossa in questo modo, si può portare in questo modo così, molto semplice però ci sono altri 8-9 modi circa di portarla si può indossare così, poi si può chiudere in questo modo così, applicando una spilla volendo si può chiudere anche da sola, arrotolando il collo su se stesso poi si può mettere anche una cintura in vita e diventa quasi un kimono poi la cosa più curiosa è che si può capovolgere oltre al fatto che si può mettere in double fass, quindi mettere dall'altra parte si può capovolgere, ovvero si mette la testa al posto dei piedi la giacca si infila in questo modo, diventa più corta dietro questo diventerà un collo gigante e poi volendo può diventare anche un cappuccio wow, non ho parole ma senti Eva, se qualcuno fosse interessato, dove ti trova, come ti può contattare? beh, ho un sito www.evadub.com si scrive evadub perfetto, grazie, ciao